Ciao a tutti ragazzi per vedere questo nuovo video Oggi faremo una reazione a una cosa A una prova nel ridere sugli animali Ed è per questo che oggi abbiamo il mio cane La mia cagnolina Samantha Te la vuoi fare questa cosa Sammy guarda la tega La vuoi dare a Sammy Amici mettere un pollice su E' dato un pollice su questo è un pollice ragazzi E' dentro ragazzi Direi che possiamo iniziare E vi lascio al video Ecco qua ragazzi il video Facciamo un pochettino Allora Bene Bel gatto che balla Papagallo Bigs box raga Mamma che c'è qua Mamma che c'è qua Mamma che c'è qua Ma tu è vero Sto a me non mi fanno Ma dai, ma dai Sto a me non mi la cara che mi sei venire Non, 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 non Il mio guanto ci ha mai visto Oddio Aspetta Quello raga è rubicatorio Guardate Vabbè Ah ragazzi abbiamo tre vite non ve l'ho detto eh Mi sono perso due Sto a me non fare Ma poverino Devo cercare di registrare, quello era troppo Ah Ah Adun darum Non far cadere la lampada, ragazzo Pensate se dopo Corri Sì Che si addormenta così Avevo una persona che si Sì Sì Sto a me sotto, sotto, sotto No, no, no Ah E mi chiedo a provare a gridare con gli animali Ah Adesso dai, un animale, no Aspetta se non lo vedete, ma Bene Che bello pinguino Sembra quello di Madagascar è tutta una musica, basta che non è copyright perché altrimenti oh, non muore niente, ma dai non sei un bambino, por favore quello raggiulione bellino riccio, ma che sarà che vuoi fare, questo è bellino c'è che ha mangiato un po' tappe crocchette e l'ha nato no, orina, questo è un po' ma perché questi fototeni sono neri davanti e bianchi dietro, non si muove, che cosa sta guardando ah, sei finito qui ah, fai, fai le busche ah, fai, fai le busche guarda, guarda di microsoft allora quel criccetto, no questo, sono troppo me l'ampo raga te l'ha fatto tipo suca, guarda di microsoft ma dai c'è la crocchette cos'è questo? ah che carimanea è questo? un bradipo? penso che sia un bradipo no, non è possibile guarda Spurcetti guarda la policcetto o guarda la musica? ma questa che cosa è? non mi ricordo di cui si chiama fatemi entrare e guardi eeeh oddio ma l'ha ucciso quel cane no ma poverino ma povero bene ma questo cane l'hai saltato la corda va vissami vedi molto ma ma da poverina signora state calme gallo ma io ho saltato eeeh bene bravo e Michael Jackson come on come on come on come on made in wish eeeh 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 nooo la mantide religiosa wow scogliattolo che fa il cane come on 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 eeeh ma sta la ruga gigante eeeh ooo oddio ma che mi cobra mi sa no no bellino no 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 ho preso un'altra volta ma basta venga andiamo a vedere il video mi perdo sempre dai come si fa capolo perre questa voce di sto gatto no 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 ma andata avevo già perso quindi direi che ho video rigeo quattro volte ma comunque ragazzi e spero anche ragazzi questo video ragazzi mi sia piaciuto ringrazio la mia cagnolina samantha per avermi sopportato per tutto questo tempo e che la tengo in braccio e ragazzi da me un saluto ciao ragazzi non tanto bene ciao saluto sammy ciao ciao ah ah mi faccio un bel sacco oh ah 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 Grazie per la visione!